Quattro giornate dedicate al meglio della produzione internazionale di cortometraggi. Al panne all'istituto francese Grenoble dal 19 al 22 novembre, ritorna il festival Ocourt, la storica rassegna nata all'interno della Mediateca Santa Sofia e oggi, dopo due anni di pausa, giunta alla quattordicesima edizione organizzata con l'Associazione Culturale Taiko. Fra gli oltre mille cortometraggi pervenuti, 60 sono stati selezionati per la competizione articolata in 5 premi, una sezione internazionale, una riservata agli autori napoletani, una di animazione, una per i lavori di ambito educativo e una per le opere realizzate con strumenti leggeri. La giuria sarà presieduta dal regista Daniele Cipri. Siamo orgogliosi come amministrazione di presentare quindi Ocourt, che ha avuto uno stop di due anni, ma che rappresenta un bene comune della città di Napoli. Un'occasione per farsi conoscere, ma soprattutto per contaminare e porre Napoli al centro, in modo molto forte di quella che è la produzione artistica internazionale nel settore del cinema e del documentario. Una retrospettiva su Mikhail Kobachize, maestro sublime del corto che subì la censura del regime sovietico, costituirà uno dei momenti di punta del festival, che si completerà con incontri promossi dagli istituti di cultura francese, tedesca, spagnola e cinese sui rispettivi orientamenti delle filmografie nazionali. Sempre all'Istituto Francese, venerdì 21, la proiezione esclusiva del film intervista di Michel Gondry su Noam Chomsky, mentre giovedì al PAN una tavola rotonda sul noir. La scuola italiana di comics che ha curato una delle mostre che arricchisce quello che è il programma del festival, con questa mostra di affisce ispirate ai cortometraggi di Mikhail Kobachize. Quindi c'è un'attenzione alla realtà napoletana, però anche a contempo alla realtà internazionale, è un'attenzione molto marcata nei confronti del pubblico giovanile. Ci sono dei film prodotti dall'Indigo, film di Nicola Giuliano, il produttore, come si sa, della grande bellezza, che negli anni passati, ma anche oggi, ha anche una forte attenzione sul formato breve, sul cinema breve. Altre che i film di animazione, ecco, per esempio i film di animazione veramente molto molto belli, che vi consiglio caldamente. Il programma completo su www.ocurt.it